Sì, il rapporto di ispezione ambientale di ARPAT che rientra tra i controlli programmati che ARPAT fa in tutti i siti di conferimento dei rifiuti è abbastanza chiaro, conferma il quadro problematico e di grave criticità relativa soprattutto alla condizione delle acque sotterranee era già stato individuato più di un anno fa, da lì erano poi partite tutta una serie di provvedimenti e di azioni volte a comprendere e capire la situazione reale delle acque sotterranee in Regione Toscana nel settembre del 2021 era iniziato nel settore bonifico un procedimento di individuazione del responsabile di questa potenziale contaminazione procedimento che però si è interrotto e è stato sospeso a dicembre ora, il prossimo 23 febbraio comincerà la conferenza dei servizi autorizzativa dell'ampliamento richiesto da CSI più volte dall'assessore regionale all'ambiente ha avuto rassicurazioni che il procedimento autorizzativo, quindi il PAUR non si concluderà fino a che non sarà evidente la condizione di inquinamento dell'area e quindi chi sarà anche chi è il responsabile di questo inquinamento per ARPAT la situazione è chiara, c'è un'evidente situazione di contaminazione delle acque sotterranee il responsabile è CSI con le attività della discarica per questo immediatamente mi sono messa in contatto nel settore bonifico della Regione Toscana per chiedere quando riprenderanno il procedimento di individuazione della potenziale contaminazione e contemporaneamente ho scritto a Publiacqua perché in via precauzionale e straordinaria possa intraprendere una serie di controlli relativamente ai pozzi in Oltrarno e a Santa Maria Labadiola che sono quelli che poi alimentano l'area feidrica di gran parte del Comune di San Giovanni Valdano noi siamo particolarmente preoccupati dalle risultanze di questo rapporto che continuano a delineare un quadro di grave criticità come si procede a questo punto? C'è da una parte una conferenza dei servizi che inizierà il 23 febbraio la quale però deve tenere conto delle risultanze del procedimento di individuazione del responsabile di questa potenziale contaminazione quindi quel procedimento al settore bonifico della Regione Toscana deve essere ripreso quanto prima perché non può essere concesso un'autorizzazione se non si fa chiarezza su quella situazione per cui siamo stati molto soddisfatti della delibera di Ato Sud che di fatto ha chiuso Podererota al conferimento dei rifiuti urbani ora manca l'ultima partita che si deve a mio avviso chiudere allo stesso modo perché lì c'è una situazione da bonificare